Stato di emergenza oggi su Molise e Abruzzo per effetto della depressione che ha spazzato le due regioni adriatiche dalla giornata di ieri. I territori sono ripiombati improvvisamente nell'inverno più cupo, venti fortissimi da nord sull'area Venafrana, disagi nella circolazione viaria in altissimo Molise, tra Staffoli, Agnone e Capracotta. In quest'ultimo comune sono caduti circa due metri di neve in meno di 24 ore. Notevoli ritardi nella gestione e negli interventi di soccorso da parte dei pochi mezzi sgombero neve della provincia di Isernia. I vigili del fuoco nella notte e al mattino di oggi hanno dovuto recuperare decine tra auto e furgoni in panne sulle strade innevate dell'Alto Molise. I vigili si sono dovuti ad operare anche per il trasporto di anziani malati dai paesi della provincia verso l'ospedale veneziale. Nella notte solo attorno alle 23 una ventina di passeggeri provenienti da Napoli hanno fatto scalo alla stazione ferroviaria di Campobasso. Tre ore di ritardo a causa di due alberi divelti dal peso della neve e caduti sui binari nelle vicinanze del capoluogo. Dalla capitale invece i passeggeri in arrivo in Molise sono stati dirottati sugli autobus sostitutivi. Intanto continuano a registrarsi su buona parte di Molise-Abruzzo blackout delle linee elettriche e telefoniche. A proposito di Abruzzo è stato di calamità al comune di San Salvo per i danni inferti in questa coda invernale ed ai venti fortissimi che sferzano dai quadranti settentrionali. Lo stato di emergenza nazionale è stato chiesto oggi dal governatore abruzzese Luciano D'Alfonso al governo del Premier Renzi. Sono intanto segnalati allagamenti non solo sul litorale del Basso Molise ma anche su alcuni raccordi sull'affondo Valle Trigno per la piena del fiume omonimo e del torrente Treste. Fango, detriti e inondazioni hanno messo in ginocchio numerose colture dalla parte interna fino al mare. Il quadro meteorologico di oggi non dovrebbe prevedere ulteriori peggioramenti climatici, sporadiche e deboli nevicate ancora nelle prossime ore su Campobasso e nei centri limitrofi di alta montagna. Tutte le squadre delle forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile e i mezzi delle amministrazioni provinciali sono su strada per tamponare le numerose emergenze in atto, possibili stop alle attività didattiche anche domattina a livello precauzionale in diversi comuni montani del Molise. Le decisioni attese dai comuni probabilmente solo in tarda serata.